Benvenuti nel cuore di News Mix Up. Prima di svelarvi gli avvenimenti di oggi, chiediamo il vostro sostegno, un semplice gesto, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza immenso. Grazie di cuore. Nicola Porro ha avviato l'edizione di Stasera Italia su Rete 4 affrontando il tema dell'omicidio di Giulia Cecchettin, perpetrato dall'ex fidanzato Filippo Turetta. Porro ha evidenziato le dichiarazioni del padre di Giulia, il quale, nonostante il dolore per la perdita della figlia, ha messo in guardia sul pericolo delle violenze contro le donne. Il giornalista ha sollevato interrogativi riguardo alla presunta responsabilità collettiva e genetica degli uomini nelle violenze contro le donne, esprimendo dubbi su questa generalizzazione. Ha inoltre sottolineato che, sebbene ogni femminicidio rappresenti un problema grave, il numero di tali crimini in Italia è diminuito dal 2020, passando da 68 a un numero non specificato. Porro ha confrontato la situazione italiana con quella europea, evidenziando che l'Italia registra un numero inferiore di femminicidi rispetto ad altri paesi del continente. Sul suo sito, il giornalista ha commentato una lettera pubblicata sul Corriere della Sera da Elena Cecchettin, sorella di Giulia, la quale attribuiva l'omicidio alla cultura del patriarcato e dell'abuso. Porro ha respinto l'idea che queste due culture siano strettamente collegate e che l'omicidio di Giulia sia il prodotto di esse. Affermando di non sentirsi colpevole né del patriarcato né della morte della giovane. Ha continuato esprimendo profondo rispetto per il dolore di Elena, ma ha respinto l'idea che il femminicidio possa essere considerato un omicidio di Stato. Qual è la tua opinione sulle dichiarazioni di Porro?